Occhio ai giornali di mercoledì 17 marzo 2021, ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV, ben ritrovati a tutti, siamo di nuovo insieme alle 7 del mattino in diretta con la rassegna stampa, il commento ai giornali, oggi vi dico subito che sarà una rassegna stampa nella quale cercheremo con delle pagine interessanti di avere un quadro ben preciso della situazione, soprattutto per quello che riguarda i vaccini e poi su quello che è il quadro della pandemia nelle Marche, perché ieri c'è stata una riunione fiume a 10 ore, il Consiglio regionale delle Marche, dove sono state discusse alcune cose importanti perché erano proprio su questo tema della pandemia. Andiamo con ordine, vediamo il santo di oggi, il santo è San Patrizio, il sole è sorto alle 6.20, tramonterà le 18.18. A tirarci su un po' il morale, oggi c'è il tempo, il tempo con questo sole che splenderà un po' su tutta la regione Marche, ad eccezione della costa meridionale della nostra regione, il pomeriggio un po' di velature, qualche pioggia sugli appennini, insomma nella zona dell'Ascolano, la notte scivolerà tranquilla e serena, poi domani ancora un po' di nuvolosità, con addirittura la neve nella mattinata a 600 metri di quota, siamo sui Sibillini, insomma sulle montagne degli appennini meridionali. E in attesa del peggioramento, anche insomma questo freddo che ancora persiste, ma ci sta, insomma il 21 di marzo, il giorno della primavera sta per arrivare, ma avremo 3-4 giorni di pioggia nel fine settimana, sabato, domenica e lunedì avremo giorni di pioggia. Ma intanto godiamoci queste giornate di sole che ci aiuteranno a stare un po' su, come dicevo, di morale. Intanto il titolo è questo, dal Corriere Adriatico di oggi, edizione di Pesaro, così rischiamo il panico, quindi non so se servirà il sole, basterà soprattutto il sole di oggi. Intilt, intilt la filiera delle vaccinazioni. Centro Monaldi a Pesaro, chiuso per due giorni e medici di base disorientati. Nelle Marche sono bloccate 22 mila dosi di AstraZeneca, contagi in discesa, macerata adesso supera addirittura Ancona. A centro pagina invece la fotonotizia è sull'Università tra Scienze e Nautica, accordo con la Politecnica e il cantiere navale di Pesaro. Poi la bella notizia, la buona notizia, è che gli anticorpi monoclonali arriveranno a breve anche nella nostra regione, e quindi potranno curare le persone che individuano in maniera precoce, perché poi la sostanza è questa, che i monoclonali si possono utilizzare soltanto se si è entro i sette giorni, massimo massimo dieci, ma non di più, perché altrimenti poi non possono essere utilizzati questi monoclonali come cura. Quindi bisogna entrare in azione subito per evitare l'ospedalizzazione. Poi l'addio per il Covid di marito e moglie, in meno di 48 ore affano una coppia, marito e moglie, che sono stati uccisi appunto dal virus. Due anni da incubo dopo veleno e coma, riparto dalla laurea, e da Vallefoglia sparito in Germania, shock dopo l'appello, si è scoperto praticamente che era già morto da un anno. E poi sotto la farmacia ex zongo a Bartorelli, finita l'odissea dell'alienazione, superato lo stallo che era stato determinato dal decesso del vincitore dell'Aste del 2019. Adesso andiamo, e poi c'è la notizia sull'ecomuseo, e idee giovani, Metauriglia di Fano può rinascere. Andiamo invece adesso sul Carlino, invece. La fotonotizia, un'altra arma antivirus monoclonali, sì alla sperimentazione a Marche Nord, dunque San Salvatore, e non solo San Salvatore, ma in questo caso sarà San Salvatore sicuramente, morto, ma nessuno lo dice ai parenti. La famiglia denuncia la scomparsa e lo cerca su chi l'ha visto, lui però era deceduto in Germania un anno e mezzo fa. Fermato da un carabiniere, butta via la droga, in seguimento e placcaggio da film, è successo a Pesaro, poi l'università che arriva a Pesaro e che si fa in tre, con nuovi corsi in arrivo, e poi AstraZeneca, quasi 22 mila dosi bloccate nelle Marche, buoni spese in arrivo, un nuovo bando, Rogo distrugge il tetto di una villa a Montecchio, e sotto lo Sport, anche qui la buona notizia che il comandante Repege è tornato al timone della VL, dopo una ventina di giorni a combattere il virus, e intanto una squadra, la Megabox di volley, di pallavolo, alle prese con un focolaio, sono state contagiate otto ragazze, otto persone della squadra. Carlino di Ancora, invece, nel tunnel del Covid, nuova TAC per i malati, l'età media degli infetti tra i 50 e i 55 anni, titolo invece, vaccini e ora la ripresa, è un rebus, bloccate 22 mila dosi di AstraZeneca, avanti solo con i richiami, cabina di regia per l'emergenza. Allora, questi i titoli delle principali pagine dei due quotidiani del Corriere del Carlino. Adesso entriamo invece nelle pagine nazionali del resto del Carlino, perché Alessandro Farruggia, questa mattina, scrive un articolo molto interessante che riguarda i vaccini, e soprattutto pubblica alcuni dati, e qui vi prego di fare un po' di attenzione, perché ci sono dei numeri che sono necessari da leggere per cercare di capire. Allora, intanto l'EMA, l'EMA si presenta ad assolvere, quindi a dare di nuovo il via libera, lo farà ufficialmente giovedì, si è presa un po' di giorni, ancora per studiare bene le carte, le analisi e quant'altro, ma si appresta ad assolvere AstraZeneca. L'asse Draghi-Macron, presidente francese, e tutti e due sono d'accordo che se giovedì arriverà l'ok di EMA, appunto di rilanciare questo piano vaccinale, utilizzando anche AstraZeneca. Domani c'è la decisione quindi dell'Agenzia del Farmaco Europeo, lo studio parla di eventi collaterali meno frequenti rispetto a Pfizer e Moderna. E allora qui adesso cerchiamo di capire. Intanto EMA naturalmente, qui la direttrice dell'Agenzia, in questa fotografia molto grande, vogliamo capire, dice lei, se sono effetti collaterali oppure semplicemente delle coincidenze. Uno, assicuriamo totale trasparenza, e questo già ci fa sperare, la nostra decisione sarà presa appunto giovedì. Ma attenzione, andiamo a vedere un po' nel dettaglio questi dati. Da notare che secondo il database, quindi secondo l'archivio di questo ente europeo, che si occupa di farmaci, nei vaccini di Pfizer e di Moderna, le reazioni avverse a livelli paragonabili con il placebo per gli eventi gravi, hanno tassi superiori rispetto a quello di AstraZeneca. La mortalità è dello 0,0038% per Moderna, dello 0,00086% per Pfizer e dello 0,00057% per AstraZeneca. Ora, risultano infatti 102.100 segnalazioni di reazioni avverse per Pfizer, quindi 102.000, 54.571 per AstraZeneca e 5.939 per Moderna. Un dato che scende rispettivamente a 17.000, 3.000 e 1.000 se si considerano soltanto le patologie che hanno portato alla sospensione precauzionale del vaccino anglo-svedese. Allora, quali sono i problemi che crea? Problemi cardiaci, vascolari, incluse trombosi ed emorragie, e del sangue, incluse le coagulopatie. Ora, in particolare, e qui torniamo ad altri dati interessanti, in particolare, dai dati emergono 365 decessi di persone inoculate con il vaccino Pfizer, di cui non se ne è sentito parlare neanche di mezza persona. A questo punto abbiamo parlato solo di queste 3-4 di AstraZeneca e non abbiamo praticamente saputo quasi nulla di queste 365 che sono decedute e che hanno avuto questo vaccino Pfizer. Quindi 365 con Pfizer. I decessi sono per problemi cardiaci, 276 morti, di problemi con problemi vascolari, 74 decessi, e del sangue del sistema linfatico, 15 decessi. Dunque si tratta dello 0,00086 sul totale di 42.407.948 dosi di Pfizer distribuite nell'Unione Europea più Islanda, Liekestein e Norvegia. Ora, per AstraZeneca, attenzione, risultano 85 decessi per le stesse patologie rispetto ad un totale di 14.874.397 dosi. Quindi torniamo a quel famoso 0,057%. AstraZeneca ha visto segnalazioni per 63 morti per disturbi cardiaci, 11 per problemi vascolari, e altrettanti per patologie ematiche. Nel caso di Moderna, il totale dei morti per le tre patologie messe in possibile relazione, possibile, con la somministrazione del vaccino è 137 su un totale di 3.600.000 errotte dosi distribuite. 96 decessi per problemi al cuore, 32 per effetti collaterali vascolari e 9 per problemi del sangue. Quindi torna il dato dello 0,038%. Ora, questo per farvi capire come a volte è anche un problema di comunicazione. A volte ci si fa delle paranoie semplicemente perché ci si fissa su un obiettivo e quello diventa il male assoluto e si perde di vista un po' tutto il resto. Ora è chiaro che si è sempre detto che i vaccini ma da che mondo in mondo è sempre stato così come i farmaci hanno degli effetti collaterali e di conseguenza è un po' come successe con ricorderete la meningite quando c'è stata la meningite se non ricordo male in Toscana per dieci giorni sembrava che tutta l'Italia in tutto il mondo ci fosse la meningite. Perché? Perché tutti i giorni si parlava di questo e quindi la percezione la percezione era di assoluto allarme e penso che più o meno la stessa cosa valga con AstraZeneca che lo ribadiamo è partito male ed è stato ormai bollato però credo che ci sia stato un accanimento dal punto di vista dell'informazione perché altrimenti vorrei sapere qualcosa di più anche di questi 365 morti con Pfizer ora quindi credo alla fine di tutta questa faccenda che bisognerà fare una sola operazione quella di fare il vaccino e di non temere perché altrimenti la paura ci frega e quindi fidarsi in qualche modo di quello che ci dicono le autorità i medici e coloro che chiaramente ne sanno anche più di noi giornalisti bloccate 22.000 dosi di AstraZeneca qui siamo sul Corriere Adriatico questa mattina poi chiaramente ognuno fa come gli pare perché è grande e in questo caso ci sta pennello vaccinato e quindi può dire pensare sicuramente in coscienza come meglio crede noi stiamo commentando i giornali allora andiamo a vedere adesso invece questa pagina del Corriere Adriatico perché come dicevamo qui nelle Marche sono quasi come dicevo 22.000 le dosi di AstraZeneca che sono state bloccate non possono essere ovviamente utilizzate fino a quando non arriverà la valutazione di lei ma che arriverà appunto domani e Acquaroli il governatore delle Marche ieri ha fatto il punto della situazione nel Consiglio regionale che è stato fissato proprio per era stato fissato per parlare di questa emergenza allora intanto Acquaroli dice andiamo serve chiarezza questo va bene però andiamo avanti con la somministrazione degli altri vaccini quindi Pfizer è moderna con i richiami soprattutto ma le dosi saranno utilizzate anche per i disabili ricoverati nelle strutture sanitarie ora la situazione in questo momento nelle Marche è la seguente per il tredicesimo giorno consecutivo i degenti sono cresciuti ancora ieri erano in totale 868 quindi più 14 mentre sono 43 le persone dimesse nell'ultima giornata sono stabili invece i ricoverati in terapia intensiva sono 133 in questo momento le persone in terapia intensiva quindi più 1 in semi intensiva sono 214 il numero invariato mentre si è registrato un inconsistente quindi un notevole aumento di degenti in reparti ma non intensivi in questo momento ce ne sono 521 di persone ricoverate più 13 una situazione ovviamente determinata dalle varianti soprattutto quella inglese che è diventata dominante nelle province maggiormente colpite che sono Ancona e Macerata ora stiamo dice ancora Acquaroli costituendo una cabina di regia su queste vaccinazioni cioè un centro unico dove dove si possa decidere senza andare a fare senza troppi discorsi un unico posto dove si possa decidere e monitorare a livello regionale ma tutti i santi giorni quello che c'è da fare quello che succede eccetera una cabina di regia vera e propria quindi ad oggi sono state inoculate 179 mila dosi di cui 130 mila prime dosi i richiami e a ieri sera altre 49 mila circa per la la campagna vaccinale andrà avanti per settimane e addirittura per mese ha detto ancora Francesco Acquaroli intanto al Monaldi di Pesero in attesa di andare all'Iper Rossini in una struttura un po' più grande ieri si sono presentati quelli della seconda dose Pfizer nessuna reazione siamo tranquilli con lo stop di AstraZeneca ora si fanno solo i richiami alla celletta scorre tutto abbastanza liscio l'organizzazione dicono ha funzionato Saltamartini però va all'attacco sono ancora da realizzare 59 posti di terapia intensiva l'assessore parla dei rallentamenti che sono stati causati dall'iter con l'ex commissario come dicevo è stata una seduta a fiume di quasi 10 ore del consiglio regionale straordinario dedicata all'emergenza sanitaria un dibattito anche aspro con rimpalli di responsabilità tra l'attuale maggioranza l'attuale giunta e quella precedente che tra l'altro ha anche colorazioni politiche diverse prima la sinistra il centro-sinistra adesso il centro-destra ebbene si è parlato in particolare ci si è scaldati sulla realizzazione di questi 105 posti letto così come era stato previsto per le marche dal decreto legge 34 approvato il 18 maggio 2020 ora questo decreto prevedeva la realizzazione di 105 posti letto di terapia intensiva ne sono stati realizzati solo 46 perché la strada seguita da alcune aziende ospedaliere è passata per l'ex commissario straordinario con la conseguenza che a tutt'oggi mancano praticamente 59 posti di terapia intensiva ancora da realizzare una situazione quella degli ospedali marchigiani che è tra le più critiche d'Italia quanto a saturazione dei reparti sia intensivi che di area medica per quanto riguarda invece il personale sanitario Salta Martini ha comunicato che dal 31 ottobre al 28 febbraio sono state assunte 73 nuove medici e dal concorso 3.000 infermieri e ne abbiamo assunti 350 frena intanto e questa è una buona notizia per gli anconetani frena la locomotiva Ancona meno 10% in una settimana rallenta la provincia con più positivi a marzo l'incidenza è scesa da 520 a 428 casi ogni 100.000 abitanti ieri il sorpasso di Macerata 154 contagi e contro i 147 le Marche in questo momento vanno un po' in discesa ma torno un attimo indietro sull'altra pagina di nuovo del Corriere soltanto perché mi ero segnato questa che un po' ci fa capire come stiamo messi ecco vedete il titolo la pandemia fa aumentare il consumo di ansiolitici è una notizia di cui ogni tanto si parla ma adesso c'è un report che indica le Marche da record con più 68% di consumo di ansiolitici secondo il monitoraggio dell'Agenzia Italiana del Farmaco nel 2020 si è registrato un più 12 del loro acquisto questo a livello italiano ma nel centro Italia quindi nelle Marche il consumo di ansiolitici l'acquisto di ansiolitici è aumentato del 68% prima di noi c'è solo l'Umbria con il 73% in più di acquisto ora invece l'altra pagina che voglio segnalarvi sul Corriere Adriatico è sugli anticorpi monoclonali ora su questo abbiamo parlato anche qui in rassegna negli altri giorni sapete un po' che insomma come come va anche un po' come la penso su questa cosa degli anticorpi monoclonali rispetto al vaccino e la notizia è che arriveranno a breve anche nella nostra regione le cure con questi anticorpi monoclonali che sono una novità importante per combattere il Covid a denunciarlo è stato sempre ieri Francesco Acquaroli durante questo questo consiglio straordinario allora quali sono i limiti della di questa profilassi innanzitutto va detto che cura perché viene data a chi ancora sta diciamo bene a coloro che sono ricoverati oppure hanno bisogno di ossigeno chiaramente non si può dare non si può fare somministrare i monoclonali a livello procedurale l'infusione dura 60 minuti è lenta perché così è maggiormente tollerabile il paziente deve restare in osservazione per un'altra ora in caso di insorgessero effetti indesiderati poi potrà andare a casa con la speranza che si sia evitato così il suo eventuale ricovero gli anticorpi monoclonali possono essere utilizzati dai 12 anni in su dovrebbero legarsi in pochi minuti ai virus circolanti vanno a impedire la diffusione del virus agli altri organi quindi polmoni in primis ma non soltanto il paziente non guarisce all'istante ma resta paucisintomatico cioè con pochi sintomi e non comunque non si ricovera l'obiettivo infatti di questa cura con i monoclonali qual è? è di dare un po' di respiro e pronto soccorso perché gli ospedali non ce la fanno più se riusciamo a bloccare 100 ricoveri con gli anticorpi monoclonali abbiamo 100 persone in meno che finiscono nei reparti e questo lo dice Andrea Giacometti primario di malattie infettive agli ospedali riuniti di Ancona anche il resto del calino parla di questa importante novità che riguarda anche Marche Nord l'azienda della provincia di Pesaro Urbino il titolo anticorpi monoclonali in arrivo Pesaro avvia la sperimentazione l'AIFA ha autorizzato il progetto dell'azienda Marche Nord e quello di Torrette già inviate 133 sacche per la cura dei pazienti anziani intanto in consiglio regionale si consuma uno scontro feroce lo scontro feroce è qua con il partito democratico che va all'attacco della maggioranza non avete gestito l'emergenza detto Maurizio Mangialardi del PD vi è mancato il coraggio delle scelte quello che avete combinato in provincia di Ancona non si racconta sulla pagina nazionale pagina 4 qui armiamoci un po' di pazienza perché? perché adesso arrivano nuove regole sul distanziamento ok? come vedete siamo come dire work adesso work in progress passate ma anche se io sono contro le parole in inglese ma in questo momento ci viene incontro nel senso che si lavora man mano che si progredisce si va avanti in questa battaglia allora queste nuove regole intanto chi ha avuto il virus pare che sia immune per 5 mesi poi torna in pista le raccomandazioni di INA l'Istituto Superiore di Sanità AIFA il Ministero della Salute dicono almeno due metri tra i commensali ora attenzione almeno due metri tra i commensali i commensali sono quelli che si siedono a tavola quindi minimo un metro quando si è in zone dove magari si è chiuso non si è all'aperto eccetera ma sempre con le mascherine e tutto quanto ma dove si è a tavola quindi anche in casa in famiglia tra commensali due metri ora qui l'articolo interessante bisognerebbe ma ormai il tempo è finito ma insomma soprattutto per quanto riguarda il dilagare delle varianti di questo virus soprattutto quelle inglese ormai è stabile in Italia siamo oltre il 50% dei casi di infezione a livello nazionale in base anche a questa variante arrivano queste nuove indicazioni per le prevenzioni per prevenire il contagio e la prima tra tutte appunto è quello di aumentare il distanziamento fisico a due metri quando possibile e l'utilizzo di test multigeni per identificare la mutazione vabbè ma anche alla quarantena per i vaccinati anche questo è un altro dato alla quarantena per i vaccinati se contatto stretto e a prescindere se con una o due dosi quindi le raccomandazioni sono contenute in questo nuovo libro in questo nuovo rapporto per il distanziamento fisico un metro rimane la distanza minima da adottare ma sarebbe opportuno appunto aumentarla fino a due metri laddove è possibile specie in tutte le situazioni in cui venga rimossa la protezione respiratoria quindi quando non c'è la mascherina ad esempio quando si si è a tavola inoltre è sempre importante l'uso delle mascherine dell'igiene delle mani questa è un'altra cosa che vabbè va va tenuta ora il vaccinato cerchiamo di spiegarlo meglio perché all'inizio non si è capito tanto bene il vaccinato considerato contatto stretto deve osservare purché sempre asintomatico 10 giorni di quarantena dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo al decimo giorno o 14 giorni dall'ultima esposizione i contatti stretti di un caso di covid-19 invece possono essere vaccinati ma dovrebbero terminare la quarantena 10-14 giorni prima di poter essere sottoposti a vaccinazione insomma e poi tutta un'altra serie di regole regolette che andrebbero applicate insomma intanto la filosofa dice non esiste il rischio zero a proposito dei vaccini la paura paralizza la nostra società Simona Morini docente dice impossibile avere certezze su tutto oggi servono avventurieri e coraggio e qualcuno probabilmente dirà adesso prego si accomodi io arrivo dopo di lei intanto da Pfizer la corsa allo Sputnik il piano B per salvare questa campagna vaccinale si spera in soli 4 giorni di stop per AstraZeneca di recuperare in due settimane intanto ieri dicevamo dello scudo penale per i medici che vaccinatori oggi la notizia ufficiale è che chi tra i medici andrà a fare il vaccino se dovesse andare storto qualcosa i medici sono a riparo hanno lo scudo penale in arrivo camici bianchi sotto inchiesta dopo alcune morte sospette il governo corre ripari il ministro Germini dice facciamoli lavorare tranquilli anche perché altrimenti se no questi giustamente si tirano indietro portati via dal covid invece siamo sulla pagina di Fano in meno di 48 ore Maria Luisa e Savino uniti per sempre i coniugi di Cucurano 83-86 anni avevano sintomi dal 26 febbraio lui è ispirato venerdì lei invece nella giornata di domenica insegnante ferroviere una vita esemplare dedicata alla famiglia le figlie dicono ci hanno dato tanto amore per quanto riguarda invece il funerale dei due coniugi sarà celebrato domani mattina alle 9.30 nella chiesa di San Biagio a Cucurano poi i ferretri saranno portati del cimitero di Rosciano sotto l'Africa Chiama invece celebra vent'anni di solidarità nel primo anniversario della scomparsa di Italo Nannini lanciato per lunedì 22 il progetto non voltarsi per i profughi in Bosnia Marco scomparso in Germania ma era morto da oltre un anno notizia sciocche per la famiglia dopo l'appello a chi l'ha visto il decesso è stato comunicato dal comune dal comune di Vallefoglia poi da Fanos riaprire San Pietro in Valle il comune cambia passo sopra luogo con la soprintendenza nella chiesa barocca chiusa dopo il distacco di alcuni elementi decorativi due anni fa e ancora furioso incendio distrugge il tetto di una villa a Montecchio evacuati marito e moglie le fiamme partite da un cortocircuito sotto le travi è stata la donna a dare l'allarme e poi la storia da Fossombrone la protesta una strada che cambia nome in titolazione per ben tre volte confermato il toponimo Astorre Trappoli comprendo dice i disagi dei residenti serve coerenza nei nomi delle vie e poi sempre dalla nostra rassegna siamo in chiusura Urbino l'arcivescovo dice la sua la sua fazione è un pericolo Monsignor Giovanitani si prepara i riti pasquali e invita i fedeli ad una maggior presenza di spirito a cogliere la lezione di questi tempi le benedizioni non si fanno dentro le case l'acqua benedetta per le famiglie è preparata dai preti non si tornerà come prima sarebbe bene riprendere con un passo diverso maturati dai fatti lungomare aree verdi controlli serrati numerose le chiamate a Senigallia la polizia locale per il mancato utilizzo delle mascherine ma anche il rischio assembramenti poi sotto invece un premio letterario nel nome di Emma sarà aperto ai ragazzi tra i 10 e i 18 anni di età fa seguito al libro del papà della Fabini siamo in chiusura sempre da Senigallia gratta e vince mezzo milione di euro scusi credo di aver fatto tombola e poi l'annuncio che aveva vinto appunto mezzo milione di euro 7.29 per chi ci segue in diretta grazie per averci seguito ci vediamo stasera tra poco udienza del Santo Padre alle 9 e poi alle 16.30 esplorare i confini Joe Cage music of silence con il circolo Bianchini arrivederci grazie a tutti